Sono il centroavanti del Napoli Arcadio Smilic, il cantante Peppino Di Capri, lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore della serie Bastardi di Pizzo Falcone, Maurizio Salvi, direttore comunicazione corporate Italia di MSC Crociere, i vincitori della quarta edizione del premio ACCI, assegnato all'eccellenza di Napoli nei settori sport, spettacolo e cultura, imprese e comunicazione, organizzato in memoria dell'ingegnere partenopeo Emilio D'Alterio, prematuramente scomparso nel 2012. I vincitori hanno ritirato il premio, una statuetta, opera dello scultore Lello Esposito nel corso di una serata evento, svoltasi a Napoli a Palazzo San Teodoro e condotta dal giornalista Enzo Agliardi. Ospiti della serata fra gli altri Pino De Maio e Giovanni Cimmino, interpreti della sigla del premio ACCI e di un momento musicale dedicato ai cantautori italiani, Lello Esposito, il maestro di arte presepiale Marco Ferrigno, Piero Bracci, il musicista e autore di ACCI, il brano interpretato da Fausto Leali, l'allenatore ed ex calciatore del Napoli Vincenzo Montefusco, Roberto Ciccarelli, che ha presentato una parte del suo spettacolo musicale di cabaret, Solo i camionisti amano con trasporto, e Giovanni Lombardi, titolare di Palazzo San Teodoro. Al top player centravanti del Napoli Arcadius Milic, applauditissimo dal pubblico in sala, è stato consegnato il premio speciale Momenti Azzurri, un pulcinella realizzato da Marco Ferrigno, una targa con dedica consegnatoli dal presidente dell'associazione Giuseppe Montanino, dal vicepresidente Dino Alinè e dal coordinatore Gigi Porcelli. Grazie a tutti.